A tutti buonasera dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori, benvenuti all'appuntamento del venerdì con le previsioni del tempo per il fine settimana. Vediamo come di consueto il tempo che abbiamo avuto sino ad oggi in questi primi 18 giorni del mese di settembre. Abbiamo avuto 9 giornate con cielo sereno poco nuvoloso, 7 giorni con cielo variabile e una sola giornata con cielo molto nuvoloso coperto. Le piogge infatti sino ad oggi sono state decisamente scarse, 12 mm. Il valore atteso per l'intero mese sono 132,7. Questo valore è meglio ottenuto con i dati degli ultimi 53 anni da quando iniziano le registrazioni del centro geofisico. Dall'inizio dell'anno aumenta il deficit pluviometrico che si porta a meno 324. Anche le temperature di questi primi 18 giorni di settembre sono state al di sopra delle medie del periodo. Infatti un valore meglio di 22 gradi contro un valore atteso per l'intero mese di 18 gradi e quindi 4 gradi in più rispetto al previsto. La temperatura più alta, 28,5 gradi, l'abbiamo registrata al giorno 13. Il record per Varese sono 33 gradi registrati il 6 settembre dell'88. La temperatura più bassa invece, 13 gradi, l'abbiamo registrata il primo giorno del mese. Il record per Varese sono i 5,5 gradi, temperatura minima registrata il 27 settembre del 1972. Possiamo adesso passare all'immagine ripresa dal satellite Metasat da una distanza di 36.000 km dalla superficie terrestre. Vediamo nell'immagine la situazione alle ore 14 in particolare. Troviamo una bassa pressione sulla sud Italia che però si sta allontanando. Troviamo invece un'area di bassa pressione abbastanza importante sul minimo, sul Golfo di Biscaglia, ma che poi si estende anche sulla penisola iberica e che sarà la responsabile del peggioramento che avremo nei prossimi giorni. Questa bassa pressione infatti ha portato all'indebolirsi dell'area di alta pressione che aveva protetto le nostre regioni per tutti questi 18 giorni e porterà la risalita di correnti umide da sud ovest e masse d'aria instabili raggiungeranno la regione padano alpina, dando origine a roveci temporali un po' per tutta la settimana. Veniamo adesso alla carta di previsione per domani sabato alle ore 14. Troviamo rappresentati graficamente quello che abbiamo visto più o meno nell'immagine di prima con l'anticiclone che si ritira sul nord atlantico, massimo di 1030 etto pascale sull'Europa nord orientale, mentre tutta l'Europa sud occidentale e la nostra penisola gradualmente finiscono sotto l'influenza dell'area di bassa pressione che adesso ha un minimo di 1010 etto pascala e si trova a nord della penisola iberica. Previsioni del tempo, la serata di venerdì dal momento in cui vi sto parlando vede condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, così continuerà anche durante la notte ma avremo degli addensamenti sulla fascia alpina e qui forse qualche isolato rovescio. Sul resto della regione dovrebbe restare asciutto per tutta la notte. Domani sabato una giornata che avrà dei passaggi nuvolosi nel pomeriggio a tratti anche consistenti soprattutto in montagna e qui potremo avere qualche rovescio. Sul resto della regione domani è ancora in buona parte soleggiato con dei passaggi nuvolosi a tratti estesi ma probabilmente ancora asciutto. Le temperature si abbassano ma restano comunque al di sopra delle medie del periodo con massime tra 24 e 27 gradi, minime tra 16 e 20 gradi. Domenica comincia a farsi sentire sempre di più l'influenza della bassa pressione quindi avremo più nuvole con possibilità di rovesci anche di qualche temporale soprattutto in montagna ma nel corso della serata possibilità di qualche fenomeno anche sul resto della regione. Temperature in lieve abbassamento con valori compresi tra 23 e 26 gradi, le minime tra 15 e 18. I primi giorni della prossima settimana, lunedì ancora, avremo a tratti in parte soleggiato anche se spesso sarà nuvoloso e sono possibili rovesce temporali, mentre le giornate successive di martedì e di mercoledì vedranno un graduale peggioramento con un aumento della copertura nuvolosa e un aumento del rischio di rovesci e di qualche temporale. Anche le temperature sono destinate ad abbassarsi e saranno di poco al di sopra dei 20 gradi nel valore massimo. Con questo è tutto, vi saluto, vi auguro buona serata, buon weekend e ci rivediamo la prossima settimana. Grazie a tutti.